Ben ritrovati a Checkpoint, nuova puntata quella di oggi dedicata allo sport ed in particolare a due campioni dello sport italiano e internazionale. Abbiamo oggi in studio due campioni nelle loro discipline, ci occupiamo di Taekwondo e di Pugilato e sono i nostri graditi ospiti Antonio Carta per il Taekwondo e Simone Maludrot per il Pugilato. Grazie a entrambi per aver accettato il nostro invito. Iniziamo subito a conoscervi meglio, intanto siete entrambi originari di Olbia, entrambi classe 1978 e come detto siete tutte e due dei campioni. Antonio Carta, lei è stato tre volte campione italiano di combattimento, dice campione italiano di forme e sempre nelle forme ha conquistato due bronzi e due argenti. Ha fatto parte della Nazionale Italiana di Combattimento e adesso è direttore tecnico della squadra dimostrativa regionale del Taekwondo che è un'arte marziale di origine coreana. Adesso è istruttore anche a Olbia e Santiodoro, insomma un curriculum lunghissimo e non abbiamo proprio citato tutto. Quando hai iniziato a praticare il Taekwondo e quando hai capito che oltre ad essere una passione poteva diventare anche il suo lavoro? Come lo hai diventato? Io ho iniziato a praticare il Taekwondo nel 1991, ho iniziato così per gioco quasi, perché c'erano dei miei compagni che praticavano il Taekwondo e poi magari la sera quando andavamo a giocare così per la strada vedevo da loro delle tecniche di Taekwondo per giocare così e per me sembravano quasi magiche queste cose e mi sono appassionato quindi ho deciso poi di andare a provare il Taekwondo Io sono andato e mi è piaciuto dal primo momento, anche se poi i miei genitori non erano molto favorevoli perché per loro magari sembrava uno sport violento invece di tutt'altro. Poi hanno visto che comunque mi piaceva, ero anche diciamo abbastanza apportato quindi poi... I risultati sono arrivati quasi subito e ne parleremo. Simone Malodrotto, lei è un boxer di fama internazionale, dieci volte campione europeo dei pesi Gallo e considerato il miglior pugile in Italia degli ultimi vent'anni. Tra gli incontri ne citiamo soltanto alcuni, quello vinto contro l'irlandese Kelly che è stato costretto a gettare la spugna dopo pochi minuti e poi il mondiale, il mondiale in Giappone dove è stato sconfitto ai punti dal giapponese Usumi Asegawa dopo 12 round combattuti con coraggio e determinazione sul ring di Osaka ed è stato lì applaudito da 12 mila spettatori solo lì oltre tutti quelli che erano collegati tramite le televisioni di tutto il mondo. Anche per lei, quando hai iniziato? Eh niente, io ho iniziato a fare il cucirato nel 1992. A quanti anni? 13 anni. Mi sono avvicinato lì nella palestra, dopo un anno praticamente che mi allenavo, lì ho fatto l'esordio con i campionati regionali, niente ho vinto i campionati regionali, da lì poi ho fatto gli interregionali, ho vinto gli interregionali, e poi sono andato a fare gli italiani e lì persi ai punti. Dopo un anno rifeci nuovamente i campionati d'Italia, lì passai, nel senso che diventai campione d'Italia per due volte, dopodiché sono andato con la nazionale ad Assisi dove lì praticamente ho fatto il campionato del mondo a Cuba e un anno dopo ho fatto anche il campionato mondiale in Texas. Dopodiché ho girato un po' il mondo, diciamo, ho fatto delle esperienze. Dopo nel 2000 sono passato professionista e da lì è diventato un lavoro, nel senso che mi sono occupato a tempo pieno di fare il pugirato. Cercheremo poi di capire, di raccontare bene anche alcuni incontri, almeno quelli più significativi. Antonio, quindi anche per lei, è iniziato da giovanissimo, a dieci anni, a praticare il taekwondo. Quando sono arrivati i primi risultati? Niente, subito. Diciamo che dopo pochi mesi che ho iniziato a praticare il taekwondo, mi ha buttato il mio maestro nella prima gara regionale, dove ho vinto, nella mia prima gara regionale. Poi ho iniziato con le prime garette, così, sempre a livello regionale. Diciamo che andavano tutte bene. Poi ho fatto i miei primi campionati italiani nel 1996, dove sono arrivato secondo. E poi comunque ho continuato con i campionati italiani e internazionali anche. Insomma, risultati che sono arrivati subito. Parliamo proprio del pugilato adesso. Cerchiamo di capire perché un ragazzo sceglie di fare il pugile. Si pensa spesso che il pugilato sia legato come a un riscatto sociale, è così? Io praticamente sono sempre stato affascinato dal pugilato. Io quando lo guardavo in televisione, proprio mi prendeva la cosa. E da lì mi sono lanciato proprio nel pugilato. Mi sono avvicinato nella palestra, ho provato e subito mi sono innamorato di questo sport. Quante ore al giorno si allenava? Io mi allenavo, va bene. Il mattino facevo un'ora e un quarto di allenamento. Facevo la media di 8-10 km tutte le mattine. E poi tutti i pomeriggi andavo in palestra, facevo due ore e mezzo la sera. 12 allenamenti alla settimana. Insomma, è abbastanza impegnativo. È abbastanza impegnativo anche perché sono a fare delle rinunce, dei sacrifici. Ci vuole tanta volontà. Ci hai mai pentito della carriera che hai fatto? No, assolutamente. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, di quello che ho raccolto. Come soddisfazione sono contentissimo. Antonio Carta, lei ha scelto di praticare il Taekwondo, un'arte marziale. Per alcuni, come ha detto anche i suoi genitori all'inizio, non volevano perché pensavano fosse uno sport violento. In realtà lei dice che non è violento il Taekwondo. Eh no, il Taekwondo non è come nessuno sport da combattimento violento. Anzi, si impara tanta disciplina, c'è molta disciplina dietro il Taekwondo. Si impara il rispetto tra le persone e ti dà molta autostima. Il Taekwondo quindi non è assolutamente violento. Niente, il Taekwondo, parlo un po' della storia. È originario della Corea come arte marziale, ma che cosa lo differenzia, che so, dal karate che magari è un pochino più noto come sport? Il Taekwondo intanto è l'arte marziale coreana, un'arte marziale nata in Corea. Lo differenzia dal karate dalla sua dinamicità, diciamo, del Taekwondo. Il Taekwondo è molto più dinamico. È l'arte marziale dei calci. Prevalentemente il Taekwondo predilige i calci, le tecniche con le gambe. E' anche uno sport molto spettacolare, si può dire. Sì, sì, sì. Perché comunque adesso lei è direttore tecnico della squadra... Della squadra regionale dimostrativa, sì. Dimostrativa. E che cosa fate quando dimostrate il Taekwondo? Che cosa si fa? La parte, diciamo, più spettacolare del Taekwondo... Nel Taekwondo ci sono diversi aspetti, c'è il combattimento e le forme. Diciamo che il combattimento è la parte sportiva del Taekwondo, il combattimento olimpico è la parte sportiva, mentre le forme, diciamo, è la parte marziale. Nelle forme... Quindi la tecnica. Sì, la tecnica, esattamente, sì. Poi ci sono le tecniche di rottura, che sono le cose, diciamo, più spettacolari, dove si rompono le tavole, i mattoni, no? Con i calci, anche il calcio al volo. Molto, molto spettacolare. Simone Madrutto, cosa si prova a salire sul ring? Tanta emozione. Io, nel senso, salivo sul ring e c'era sempre la tensione, sino all'ultimo match. Però una volta che suonava la campanella del primo round, passava tutto. Un'emozione bellissima. Proviamo a raccontare l'esperienza in Giappone. Sì. Come è stata? Bene, mi hanno accolto bene, nel senso, quando sono arrivato là in Giappone, tanto di cappello, proprio mi hanno trattato benissimo. Sono stato là dieci giorni, e niente, fino a disputare il mondiale. Come è stato sfidare il campione del mondo? Lui è un vero campione, combatte ancora in attività, infatti ha fatto dieci difese del campionato del mondo, l'ha dimostrato, è un vero campione. È stata una bella esperienza. Io sono stato sconfitto... La sei giocata ai punti, quindi, insomma. Esatto, io sono stato sconfitto a testa alta, nel senso che sono andato lassù a Osaka ben preparato, per dire la mia, infatti, che ha visto il combattimento. Sì, qualcuno in effetti diceva che forse avresti anche potuto vincere, secondo alcune interpretazioni, insomma, di punti. Anche perché alla seconda ripresa io già avevo ferito a Segawa, nel senso che gli avevo provocato una ferita di... Infatti dopo gli avevano messo tredici punti sull'arcata sopraccigliare. Già dalla seconda ripresa, facendolo qua in Europa, con un risparmio del genere, avrebbero sospeso il match per intervento medico. Però non è andata così e... Però è stata un'esperienza... Sì, sì, anche perché, ripeto, sono in città a testa alta, ho fatto un bel combattimento. Era il 2008? 2008, gennaio. Il Comune, per quell'occasione, il Comune di Olbia aveva organizzato un Maxi Schermo all'Expo. Tutta la città ha partecipato a questo incontro. Come è stato per te il rapporto con la città di Olbia in questi anni, in cui tu eri il campione? Ma io, nel senso, sono una persona umile, il rapporto con la gente... L'hai sentito l'affetto della gente? Sì, 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 no, io, nel senso, ho molti amici, molti fans, sono rimasti ancora, nel senso che mi trovo bene con loro, sono sempre in contatto. Antonio, il Taekwondo, quindi, è diventato per te il tuo lavoro. Hai iniziato come all'inizio per hobby, per passione, dopodiché, piano piano, hai fatto parte anche della nazionale. Raccontaci qualche aneddoto particolare durante la tua carriera. Un aneddoto particolare di un combattimento. Ho vinto un campionato italiano contro uno dei campioni del mondo, stato vice campione del mondo, nel 2003. Ed è una cosa anche abbastanza comica, diciamo, un combattimento, dove io appunto sono andato in gara contro questo avversario, che era molto forte, anche più forte di me, dove c'era poi il mio maestro, il mio coach, il mio maestro Salvatore Corda. Ho iniziato a combattere. Ero, diciamo, abbastanza preparato, però avevo un po' paura di lui, perché era più forte di me. Il mio maestro mi disse, vai a combattere, zoppica, no? Fai finta di zoppiccare, così, magari lui si prendeva coraggio, prendeva coraggio, io gli mettevo i punti sulla corazza e ho vinto l'incontro zoppicando. In realtà poi non avevo niente. Questo era un aneddoto comico. In maniera, cioè, strategia, strategia è stata. Sì, 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 sì. E così ho vinto il campionato italiano. Il campionato italiano, per la prima volta, quel campionato italiano si disputò a Olbia. Sì, nel 2003. Il primo campionato italiano è a Olbia nel 2003, dove io ho vinto e appunto sono molto orgoglioso di questa gara. Ti ricordi, insomma, con piacere. Sì, sì, con piacere, sì. Perché è stata poi una gara molto difficile. Ho fatto disputa ai quattro incontri, compresa la finale, quindi uno... Ho vinto anche per K oltretutto, sì. Insomma, una bella soddisfazione. Simone Madrotto, quali sono stati i tuoi maestri? Gidio Pellegrino e Stefano Contini. Com'è il rapporto? Quanto è importante il rapporto con il maestro? E quanto conta anche nella formazione di un atleta? Esattamente. Sono due persone serie che mi hanno seguito da bambino, dall'inizio della carriera fino alla fine. Tuttora il rapporto è bellissimo. Io sono sempre in palestra perché sono passato aspirante e insegnante e quindi i pomeriggi vado anch'io a insegnare ai ragazzi. Quindi collaboriamo insieme, stiamo sempre a contatto. stiamo bene insieme. Sì, sì, sì. È un rapporto quello con il maestro quotidiano, immagino, no? Sì. Vi segue sempre. Come funziona? Come si organizza la giornata di un atleta? Chi la organizza innanzitutto? L'allenatore, sì, sì, sì. Si parla con l'allenatore, si fanno i programmi. Nel senso, noi facevamo i programmi dal mattino, facevamo degli schemi per la preparazione, per svolgere la preparazione per arrivare a fare il combattimento. Ma l'allenatore diventa anche come una sorta di psicologo, è lì che ti assiste quando hai problemi, che ti incoraggia. Anche come un secondo padre, sì, che sta di lì, che ti segue, ti dà i consigli. Niente, poi il mio compito è di salire sul ring e di combattere. Ma lui sicuramente vince e perde con te, immagino? Esattamente, esattamente. Nelle sconfitte soffre anche lui. Immagino, immagino. Antonio Carta, allora, una novità che adesso ti riguarda è che parteciperai alla prossima edizione di Italia's Got Talent. Sicuramente, ti vedremo sul canale 5. Sì, sì, sì. Cosa farai? Eh, niente, andrò a fare un'esibizione in Taekwondo, mi hanno chiamato. E niente, farò, diciamo, le cose più spettacolari del Taekwondo, se no che poi vada bene. E niente, partirò insieme a un mio compagno, che si chiama Gabriele Pighinu, anche lui fa parte della Nazionale Italiana, lui è un atleta molto bravo, anche perché poi quest'anno ha fatto i campionati del mondo di forme, dove ha preso il bronzo. È molto bravo, ma ha fatto anche i campionati italiani da poco e gli ha vinti, è arrivato primo, è pluricampione italiano, quindi partirò con lui. Quindi ti vedremo esibirti a livello nazionale, quindi... Sì, 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 sì. Ti stai preparando per questa esperienza? Sì, ti sto preparando, sì, sì, sì. Speriamo di essere abbastanza informali, ti danno poco tempo, perché hai due minuti, due o tre minuti di tempo per esibirti, quindi non puoi far vedere tanto. Faremo vedere, diciamo, le cose più spettacolari, visto che non si ha tanto tempo. Simone Malodrotto, ritorniamo al Mondiale. Come è proseguita la tua carriera dopo quell'esperienza in Giappone? Allora, dopo che hai fatto il Mondiale, ho fatto altri quattro match senza titolo in palio, dopodiché ho fatto il campionato, nuovamente il campionato d'Europa a Nottingham. E niente, lì è stato l'ultimo match. Ho fatto quello lì e poi è finita la mia carriera. È stata interrotta. Perché è stata interrotta? È stata interrotta perché praticamente un infortunio mi ha portato a finire la carriera, nel senso che ho subito un trauma al muscolo oculare, avevo una leggera diplopia, e questo non mi permetteva di allenarmi al 100%, avevo sempre questo disturbo nella visione, quindi ho fatto vari accertamenti, finché dopo è stato riscontrato questo leggero trauma sull'occhio che mi hanno detto che è meglio sospendere la carriera perché facendo il pugilato la situazione va a peggiorare. Cosa avresti potuto rischiare? Quindi lì ho preso una decisione e ho chiuso tutto. Si è letto sui giornali che avresti potuto rischiare la cecità? No, no, quelle sono fesserie, nel senso che la vista è buona, grazie a Dio ho decidecimi. Niente, c'era solo questo leggero problema, nel senso che dopo un anno anche di riposo, dopo un anno perché mi sono fermato nel 2009, già a fine 2010 questo problema con una cura che ho fatto era già risolto. Però dopo ho perso un po' gli stimoli e basta. E quindi adesso che cosa fai? Adesso non te leni più. Adesso niente, sono passato come aspirante tecnico, insegnante. Quindi continui ad allenarti? Sì, rimarro sempre nel campo del pugilato. Però basta con le gare? Sì, sì, con l'agonismo basta, finito. Non ti mancano? No, sono contento della scelta, va bene così. Hai girato comunque i ring di tutta Europa? Sì, sì, sì. Che anni sono stati? A me piaceva, anche perché mi portavo tutti dietro, nel senso che portavo dietro la mia ragazza, portavo dietro i miei genitori. Quindi ti seguiva un... Sì, sì, avevo un buon seguito, anche i tifosi locali, diciamo. I tifosi albesi, io quando andavo anche a Londra, portavo anche 50-60 persone da Olbia. Così anche in Spagna, a Belfast, un po' dappertutto, diciamo. E anche in Giappone. Anche quando ho fatto il mondiale in Giappone sono venuta una quarantina di persone per farmi il tifo. Insomma, quanto conta avere il tifo amico e non avere sempre un tifo ostile? Certo che ti dà una marcia in più, nel senso, vedere un po' di supporto, un po' di tifo, quando combatti, anche se si sentono poco, nel senso che combattere con 10.000 spettatori, che sono tutti contro di te, 50 fanno poca differenza. Però il solo sapere che ci sono 50 persone che sono lì per te, che tifano per te, ti dà coraggio. Per te, Antonio, invece, anche come è stato? Anche tu avevi questo seguito? No, per noi è un po' diverso. Anche perché noi, quando si fa una gara, non è, diciamo, come nel pugilato che prepari un incontro, fai soltanto un incontro. Da noi si fanno diversi incontri. Una gara dura anche due o tre giorni, dipende dalla gara che è. Tipo un campionato italiano dura tre giorni e si fanno tanti incontri. Diciamo che il taekwondo, rispetto al pugilato, è meno seguito, perché ovviamente è meno pubblicizzato, in arte marziale è meno pubblicizzato, il pugilato è molto più seguito. Il taekwondo si definisce uno sport economicamente povero, fa parte delle Olimpiadi da poco. Allora. Spiegaci meglio. Il taekwondo fa parte delle Olimpiadi, è entrato a far parte delle Olimpiadi dal 1988 a Seoul, ha fatto l'esordio come disciplina dimostrativa. Poi, fino al 2000, dove dal 2000 in poi è diventato disciplina ufficiale delle Olimpiadi. Niente, è considerato povero perché non ci girano tanti soldi nel taekwondo, dietro al taekwondo non è professionistico, il taekwondo è dilettantistico. Chi si campa, chi si sostiene dal taekwondo sono quelli che fanno parte, diciamo, delle forze armate, come Fiamme Oro, Carabinieri. Quindi gruppi sportivi. I gruppi sportivi, sì. E allora si allenano, fanno soltanto taekwondo. Mentre per me è diverso, no? Io mi allenavo, sono entrato in nazionale e ho avuto la fortuna, diciamo, di... Al tempo studiavo e lavoravo, lavoravo con mio padre e avevo la fortuna di partecipare ai ritiri con la nazionale perché mio padre mi lasciava andare, era molto elastico. Se no, diversamente, sicuramente non avrei potuto partecipare alla nazionale. Niente, dicevo, prima, si sostengono le persone che fanno parte delle forze armate, come ad esempio il campione, l'ultimo campione olimpico Molfetta, Carlo Molfetta, che ha preso l'oro alle Olimpiadi e lui fa parte dei Carabinieri, sì. Quindi insomma... Sì. Per te, per vivere, devi insegnare. Sì, adesso sì. Io adesso sto insegnando, il mio lavoro è fare l'insegnante di taekwondo. Tra i tuoi atleti c'è qualcuno che secondo te potrebbe diventare un campione? Sì, ce ne sono diversi. Io alleno a Sant'Odoro e a Sant'Odoro ho diversi atleti molto bravi, tra i quali uno in particolare si chiama Davide, Davide Amarori, che è un bravissimo atleta, oltretutto l'anno scorso ha preso, ha vinto i campionati regionali, vice campione italiano, quindi ho anche a Olbia delle varie promesse, solo che a Olbia ho aperto da poco, quindi... Dobbiamo ancora aspettare, dobbiamo ancora aspettare. Simone Maludrotto, adesso aspirante insegnante, a Olbia c'è già qualcuno che secondo lei potrebbe in qualche modo... Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, abbiamo un seguito di ragazzi nuovi, ci stiamo lavorando adesso, vediamo un pochettino. Ma quante persone praticano il pugilato a Olbia? Anche sulla sua scia sicuramente avrà avuto un seguito. Diciamo che sono più gli amatoriali che vengono, vengono solo per fare la prepugilistica, diciamo, fanno la preparazione atletica. Ci sono anche delle donne che praticano il pugilato? Sì, il pugilato a livello della federazione italiana è riconosciuto, ci sono anche le donne che fanno il pugilato, però nel nostro caso, nella nostra palestra, solo maschi, solo uomini. Solo maschi per il momento, soltanto uomini. Per il momento sì, poi vediamo più avanti. Quanto aiuta praticare lo sport per un ragazzo? Ci seguono tante persone, anche tanti giovani. Quanto potrebbe aiutare? Anche, che so, ad indirizzarsi nella vita, a non percorrere delle strade sbagliate. Esatto. Anche il pugilato, nel senso di... Una volta che uno prende l'impegno di fare il pugilato, di fare il pugile, nel senso che... Anche perché, insomma, è uno sport che necessita di molta costanza, di determinazione. È duro poi, no? Praticare lo sport... Sì, anche perché dopo si va sul ring e se uno non è ben preparato, sali sul ring e prendi i colpi e quindi... E non è una bella cosa. Sarebbe meglio che uno salga su al 100% preparato, come facevo io. E ti tiene anche lontano, comunque, tornando al discorso che dicevi tu, ti tiene lontano dalla cattiva strada, nel senso che uno prende un impegno, va in palestra, come ho fatto io, facevo la vita atleta. Sempre in linea, diciamo. Sempre in linea. Siamo quasi in conclusione di questa nostra trasmissione. Antonio, l'ultima cosa. Insegnerai difesa personale anche alla Polizia Locale di Olvia? Sì, sì, sì. Questo è il progetto, questo mi è stato detto, è... a breve, vediamo un po'. Quindi cercherai, insomma, di dare qualche consiglio in più di autodifesa. Visto i tempi che si corrono, un po' di autodifesa fa sempre bene. Non basta. Il nostro tempo a disposizione è concluso, grazie ad Antonio Carta, grazie a Simone Malodrotto per essere stati i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata di Checkpoint. Grazie a tutti.